Musica Questo è il gioco ragazzi Lo avevo chiesto Molto fancy come grafica Ricorda molto Borderlands Sì sì anch'io Dragon Cavalier seguivo Scazzone di Rome E poi è diventato un nuovo Lectio Start game Ladio è fortissimo Come lo seguite ragazzi E siamo appena arrivati Questa è la scatola magica Ci dà le armi Questa è la tipa che ci difonisce i viaggi E abbiamo la stanza E' molto frenetico ragazzi Quindi ve lo consiglio E' molto più non c'è nessuno Eccasate ragazzi Da fastidio l'audio Come sentite Come sentite Che succede Level up Ci sono i perk Raga Power hammer Allora Replace Cambio il tuo attacco normale Con un power hammer damage Non so neanche come si mette Io che poi non leggo mai i comandi Raga Perchè lo subisco danno? Ah ecco Nessuno che mi commenta Raga Nessuno che mi dice cosa ne pensa di sto gioco Vorrei che se sia frizzata la live Io vado un attimo a controllare Che ho questi dubbi Ok mi ero spaventato ragazzi Pensavo che si era frizzata la live Il gioco è stile Borderlands Ma si chiama Robo Guest Si raga Ma è un bordello Perché io ancora non so nulla di sto gioco Questo è il pompa Bisogna sbloccare nuovi robot E' un bel gioco ragazzi Poi il compatto audio Devo dire che è abbastanza bello Si può giocare in multiplayer Si può giocare Veramente con tanta gente Proviamo il bomba Ok Eliminati E' stupendo ragazzi A me piace I giochi frenetici ragazzi Sono pazzo Scalte Nato Il problema è che La salute ragazzi Si finisce questo gioco Dai che c'è un po' di vita No Che ne dite Vi piace Maledetto bellone Oh ragazzi Le munizioni finiscono Sì sì ovviamente Samasa Siamo passati a Un altro gioco Non è Come vedi anche dal titolo della live Siamo passati a Roboghast E do un po' di live Che faccio Che cambio il gioco Durante la Fondola live Evito di portare Tre ore Lo stesso gioco Cazzo mi ricorda Doom Ragazzi Doom stile Borderlands Nuova aria C'è dell'acqua Qui possiamo ricaricare la nostra salute Qui ci sarà Arti Technology Core Qui abbiamo delle armi particolari Che se vogliamo utilizzare Ad esempio L'arco Ma io preferisco Mantenere questo outfit Ok Vado con scudo qua Prima bisogna eliminare Questo sopra Un upgrade ragazzi Salute più 10 Weepound Mastery Quindi aumenta tutto E Polish Core 2 di abilità Eliminato Ma è bellissimo Raga È bellissimo Madonna No no Mi sono stordito Prima Madonna Io mi sono infilato Non so se era lui Che mi stordiva Stavolta Stavolta la salute Ragazzi è andata Ok Farichiamo le armi Stavolta la salute Eh dai Eh stavo fiamm Stavo fiamm Sto andato io Ragazzi Se non recupero un po' di saluta Saluta Sto per morire Madonna Malissimo T'ho messo male Che ne dite ragazzi Sto gioco No Porta miseria Egerico Madò Di nuovo da zero Oh è simpatica Come arma Veniamo delimitata Non hai bisogno di caricare Certo È un po' Un po' Un bomba Ma buono è che i proiettili rimbalzano Quindi possiamo colpire il nemico alle spalle Ad esempio Non hai bisogno di caricare il nemico alle spalle Il nome rimbalza nei colpi Ah possiamo metterci sul binario Ragazzi Strepitosa sta cosa Mi piace Mi piace ragazzi Pendium perk, rage bull o stone baller Penso che i livelli siano diversi Così che andiamo qui Oh Già Cosa serve questo boom Cioè mi ha mandato indietro Dove cazzo vado? Cioè qua è un'aria che mi porta indietro Spesso quello che mi serviva Delle armi Refill ammo Ok Mi riporto in gioco Magari devo tornare di proposito indietro C'era forse quest'aria Dovevo ancora completare Ma non credo Dovevo portare l'inizio Così è buggato ragazzi Perché comunque È un early access Quindi potrebbe anche starci O forse dovrebbe andare E comunque la mappa Si conclude qui la mappa Non c'è niente Non so cosa devo fare Si vatti che Capita nei bug Vediamo dove ci porta adesso Comunque è un gioco fatto A veri multiplayer ragazzi Non è che c'è In vero è proprio una storia Lancia granate ragazzi Troviamo le armi C'è un po' toste questa qua Si va di pistolina Vedete ragazzi Le mappe cambiano E non so Sembri uguali Non so se sono anche Realizzate in maniera Come i mondi di Madonna Non mi vengono In termini Passami il termine Checco Come i mondi di No Man's Sky Vengono in realtà In maniera procedurale In maniera procedurale Quindi vengono Generati fatalmente Oggi questo esplode Ci fa il culo I nanetti Non saltano Perk Overclocking Ok Altra aria Ok Stavolta abbiamo trovato L'aria Dove troviamo Altre armi Proviamo su blaster Questo ci carica la salute Abbiamo due Abbiamo due port Non possiamo sbloccare Altre Un po' come prima ragazzi Che avevamo raggiunto Una porta del genere Ci sono nuovi nemici Bella questa ragazzi Praticamente Il blaster Di Halo No ragazzi Non lo so È una sorta Di overwatch Overwatch Insieme a Doom Insieme a Borderlands Dopo questa arma Quasi surriscalza Stiamo quasi a cambiarla Spesso Tempo di prenderci la mano Ragazzi Quanti traumi Su quel gioco Eh sì È meraviglioso È meraviglioso Sto gioco Ragazzi Un po' come prima 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 Ok, canyon completo. Il combatto audio, ragazzi, è fatto veramente bene Ok, si entra Oh Godgun Scusate, ragazzi, la mia concentrazione Devo eliminare quel campo di forza Il cazzo qui è pieno Madonna Eh, devo decidere dove andare, ragazzi Oh, ma che è Ok, eliminati Molto frenetico, ragazzi Per chi ama sto genere di gioco è proprio una manna del cielo E lepsi Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti. Qui non ho fatto ragazzi che veramente basta. Madonna. Oh i dragon cavalier. Sì sì io sto bene pure. Non vedi come mi diverto. Ma guarda si spawnano i nemici. Che ne dici di questo gioco? Cosa te ne pare? Madonna. Andiamo a armi ragazzi. Andiamo a cercare l'altra via. Mi piace? Molto bello? È un bel gioco. L'ho provato quest'oggi. Ho visto che era molto interessante. Perché non provarlo dico? L'ho posto in live. Siamo con le armi tradizionali adesso. Basta più laser. E il problema è che siamo senza salute ragazzi. Mi servirebbe un po' di salute. Siamo messi con le luci. Ci arriva. Fanculo. È un goccino di salute ragazzi. Qualcuno che me lo ha. Dai. Lì. I bastardi fanno un mare di danni. Ti attacchi multipli. Perk. Cioè più. Abbiamo un doppio delle armi. Dei caricatori. Finalmente. No. Ero senza salute ragazzi. Mi è passato un colpo. Fanculo. Però ragazzi è bellissimo. Non so cosa è. Sta bomba che ho a centro. Non lo so. Penso che pian piano si andrà a migliorare. Lo doubt. Tutto quello che ci è legato. Me ne so divertito ragazzi. No. 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 Grazie a tutti